Siamo a Madonna dell'Olmo con Anna Dalmazzo, per lei allenamento insieme a Lidia Bonifazio a prodi giorni dall'esordio ufficiale in quel di Lecce. Sì, parte finalmente il campionato italiano, è una data per noi bici attesissima perché la voglia di ripartire è tanta, sia per chi come Lidia si è dedicata all'indor finora sia per chi come me ha continuato ad allenarsi anche senza appuntamenti importanti. Siamo carichissime e felici di iniziare questo nuovo progetto insieme, grazie sempre al Custorino che ci supporta. Dovete trovare anche un'intesa, perché avete cominciato da poco a lavorare insieme, a che punto siete? Diciamo che abbiamo iniziato ad allenarci da un paio di settimane, ma l'intesa è venuta direi subito Lidia inizia una nuova stagione giocando a sinistra, stiamo a vedere se ce la capiamo bene e sicuramente lei non avrà problemi, non ne sono sicura e ovviamente dovremo stabilire i primi equilibri ma super voglio di lavorare insieme. Quindi a Lecce si va con quale obiettivo? Come minimo di mantenere la posizione di entry list, mettiamola così, siamo quinte e speriamo di fare o quinte o meglio. Le tue aspettative invece per la stagione, qual è un obiettivo che nella tua testa ti sei posto? Allora, semplicissima domanda perché per tre anni di fila sono stata eliminata alla finale Scudetto da Bonifazio Allegretti, quindi me la sono comprata così quarto tentativo spero che almeno miglioro quel risultato del nono posto. Quindi diciamo Lidia deve rimanere sui sui standard. Lidia andrebbe benissimo se rimane sul suo terzo ultimo posto dell'anno scorso. Va benissimo, grazie mille. Grazie a voi.